altra carrellata parte 2 hot car friend altra vettura ma facciamo con calma e senza verità la parte di qua già l'abbiamo ripresa prima ora manca la parte di qua la parte di qua arriva no arriva no come non arriva no oi oi se invece devo calcolare tutto 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 perfetto bye bye eccolo è lui è lui fa scanto a tutti e fate fare riprese che probabilità certo la play dentro la macchina è bellissimo